Buongiorno a tutti, sono Cristina Fabri e in occasione del 25 aprile 2020 vi leggerò la storia dell'aeroporto di Cavriago, una storia molto interessante e che forse non tutti conoscono. L'aeroporto di Cavriago si presenta come un campo di manovra, una pista corta e stretta, tra i filari di Olmi e Viti in un campo situato tra le attuali vie Prati Vecchi, Cantorazzo e Strada Valle. Il campo di Cavriago è assegnato alla regia aeronautica nel 42 ma non ha utilizzazione continuativa sino a tutto il 43. Dopo l'8 settembre di quell'anno l'aeroporto è requisito dai tedeschi e a Cavriago in particolare nella primavera del 44 assiede il gruppo notturno da battaglia della Luftwaffe. Nel maggio del 44 una parte del gruppo caccia dell'aeronautica nazionale repubblicana, che aveva sede a Reggio, presso l'aeroporto di Reggio, si sposta a Cavriago per sfuggire alle incursioni aeree alleate sulla città. Le limitate dimensioni del campo si rivelano però un pericolo per i velocieri MC 205. Due si capovolgono alla fine del campo senza gravi conseguenze per i piloti. Un terzo però si incendia causando la morte del tenente Antonio Weiss. Ancora per qualche giorno nell'agosto 44 il campo accoglie gli aerei del nono gruppo notturno da battaglia, sempre in movimento per sfuggire alla ricognizione alleata. In seguito l'aeroporto di Cavriago è inutilizzato, utilizzato come campo civetta, con lo scopo di far sprecare munizioni, carburante e tempo al nemico, mediante l'esposizione di vecchi aerei, ormai inservibili, o sagome di compensato che riproducono le forme degli aerei. C'era anche un rifugio antiaereo dell'aeroporto e si trovava in via Prati Vecchi al Civico 9. Il rifugio antiaereo è uno stretto corridoio di cemento armato, interrato, ancora oggi visibile, realizzato dai tedeschi dell'organizzazione TOT, dopo l'8 settembre 1943. Quell'organizzazione è una grande impresa di costruzioni che opera dapprima nella Germania nazista e poi in tutti i paesi occupati dalla Wermack, impiegando il lavoro quatto di prigionieri di guerra o di mano d'opera pagata reclutata in loco. Il principale ruolo dell'impresa è la costruzione di strade, ponti e altre opere di comunicazione o difensive, vitali per le armate tedesche e per le linee di approvvigionamento. Il rifugio di Cavriago, costruito vicino all'aeroporto, è utile ed efficace contro mitragliamenti o spezzonamenti da parte dell'aviazione alleata. Buon 25 aprile.